Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sapete abbiamo già discusso della situazione complicata di Motorsport Games e delle preoccupazioni riguardanti il futuro di Le Mans Ultimate. Oggi voglio condividere con voi le ultime dichiarazioni del CEO, Stephen Hood, che ha fatto luce su diversi aspetti importanti. Hood ha recentemente affrontato pubblicamente le sfide che l'azienda sta vivendo. Ha riconosciuto la difficoltà finanziaria e che hanno portato alla riduzione del 40% del personale, una decisione difficile ma necessaria per garantire la continuità di Motorsport Games. Hood ha espresso sincere scuse a tutti i dipendenti colpiti da questi tagli, sottolineando che la scelta è stata fatta per il bene a lungo termine dell'azienda. Nonostante le circostanze, Hood ha evidenziato che il team ha rimasto altamente motivato e continua a lavorare con passione su Le Mans Ultimate. Un dato incoraggiante è che le vendite del pass stagionale hanno superato le aspettative iniziali dell'azienda. Questo successo ha dato al team un'ulteriore spinta per mantenere gli impegni presi con la community, inclusa l'introduzione delle auto GT3 e di nuovi tracciati previsti per il 2024. Un punto cruciale delle dichiarazioni di Stephen Hood riguarda la ricerca attiva di nuovi investitori o potenziali acquirenti, la riduzione dei costi operativi, inclusi i tagli del personale, ed è stata attuata per rendere l'azienda più attraente dal punto di vista finanziario. L'obiettivo è ottenere un'iniezione di capitale che permetta non solo di continuare lo sviluppo di Le Mans Ultimate, ma anche di garantire stabilità a lungo termine. Per quanto concerne la Le Mans Virtual Hood, ha confermato che l'evento è stato messo in pausa almeno fino al 2025. Questa decisione è stata presa per concentrare risorse e attenzione sul completamento di Le Mans Ultimate e sulla stabilizzazione finanziaria dell'azienda. Tuttavia ha lasciato aperta la possibilità di riprendere la competizione in un futuro, qualora le condizioni lo permettano. Riguardo a RFactor 2, Hood ha dichiarato, purtroppo, che lo sviluppo è attualmente sospeso. Le risorse sono state direttate tutte su Le Mans Ultimate, ma molte tecnologie e sistemi di RFactor 2, come il sistema Race Control per le gare online, sono state, e come lo sappiamo, integrate sul nuovo titolo. Questo significa che, per il momento, non ci saranno nuovi aggiornamenti o contenuti per RFactor 2. E la paura è che, credo che sia per sempre. Le dichiarazioni di Stephen Hood quindi offrono una visione più chiara della strategia dei Motorsport Games, che sta adottando quindi per affrontare le sfide attuali. Nonostante le difficoltà, c'è un impegno concreto nel portare avanti Le Mans Ultimate e nel soddisfare le aspettative dei fan. La risposta positiva della community, evidenziata dalle buone vendite del pass stagionale, rappresenta un importante sostegno per l'azienda in questo momento cruciale. Anche se avevo espresso i miei dubbi sulla importante sostegno, ma questo rimane un mio parere personale. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Mi piacerebbe sapere, come al solito, la vostra opinione rispetto alle dichiarazioni di Stephen Hood. Pensate che Motorsport Games riuscirà a superare ancora una volta queste sfide e a portare al termine Le Mans Ultimate? Fatemelo sapere nei commenti, non dimenticate di iscrivervi al canale come al solito per rimanere aggiornati su tutte le novità e come al solito se il video è piaciuto pollice in su, da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!